Roberta Mariani, il 2020 è un anno importante per voi, ventesimo compleanno al Volzer, una impresa, diciamo così, che avete iniziato tanti anni fa, che vi ha regalato delle soddisfazioni e che chiaramente adesso vi ha anche insegnato a lottare. Lo avete fatto dopo la caduta del Ponte Morandi, lo farete a maggior ragione adesso? Assolutamente sì, il 2020 ce lo ricorderemo sempre perché è il nostro compleanno, quindi vent'anni di attività, è un anno sul quale avevamo investito tanti pensieri, tanti sogni, tante cose da fare e tutto è stato, come dire, vanificato, inficiato dal Covid. Tre mesi di chiusura sono stati un periodo molto molto pesante da affrontare perché ovviamente abbiamo tanti dipendenti, l'impianto chiuso è di una tristezza incredibile, però i tre mesi sono passati e siamo pronti, abbiamo riaperto lunedì l'impianto nella massima sicurezza adeguando a tutte le normative, quindi a tutte le disposizioni che ci sono state date dalla regione per consentire alle persone di venire nella massima tranquillità e quindi siamo pronti a ripartire e come diciamo più forti di prima perché questo è il nostro lavoro e la nostra passione e intendiamo andare avanti con forza e coraggio.